Nella notte di San Siro si traveste da Vicario, dopo tante partite un pochettino complicate nelle stadi più importanti d'Italia, tira fuori delle parate veramente veramente importanti due nel primo tempo, una su Rebic e una su Teo Hernandez, leggermente più facile ma il vero e proprio miracolo lo fa nella ripresa su Brahim Diaz una parata bellissima, va a terra molto molto bene con la mano sinistra ed evita il gol del vantaggio della Milan, per i San 7